bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale ho fatto questo nuovo è perfetto è notte e ora io farò gli assi di legno come sempre no faccio un kraft in tv faccio altri 4 stick e due piccoli di legno anzi un piccolo di legno perché come sapete un materiale cavi la pietra bella facciamo subito una fornace una fornese piazziamo la fornese qui mettiamo quattro di legno e si cucina una fornese eeeh scenderemo e mini bene ma mostriamo le coordinati va dai ah e come dovete sapere sul canale ci saranno due serie di minecraft usiamo il piccolo rompiamo la farnace andiamo al sottoterra aspettate un attimo facciamoci un attimo ehm teniamo 12 facciamoci due porte le versiamo qui bene ok spacchiamo subito questo craft ma io subito il piccolo di ferro che non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok dai. Facciamo subito un piccolo di pietra. Ok. Craftiamoci. Una cesta. Spiazziamo anche la fornace. Unica una sola fornace. Facciamo le quattro... Unica. 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 Già va un po' annoioso all'inizio, perché deve trovare cibo, fare le cose, ma è la sopravvivenza. Muori, e muori anche tu, ci manca l'ultima rivecora. Ci ha un polmo. Muori, e muori anche tu. Muori, e muori anche tu. Ma è morto. Muori, e muori anche tu. Muori, e muori anche tu. Ma è morto. Ma è morto. Ma è morto. Ma è morto. Non bene il senso dell'orientamento su questo gioco. Ok, abbiamo raccolto tanto cibo. Ma è morto. 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 Ok ragazzi Spostiamoci Nell'altra Serie Principale Di Minecraft Presti Return All controller di Padraic Tu open chat Allora questo È il nostro magazzino Dove depositeremo I lati di lazzoli Andiamo a casa Avevo pensato Di creare Uno zoo Per gli animali Lo zoo Per gli animali E ho pensato Di fare Tipo ora Dovremmo Andare A dormire Buonanotte Lifebet Ok Ci dobbiamo svegliare Teniamo Uno stack Di coal Carbone Metti qui Nove E E fai cucinare Un po' Difficile Da Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non fa niente Grazie a tutti 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 Iniziamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti